E che altro possiamo aggiungere? Che ci sia... Aggiungi qua, stiamo aggiungendo infatti, ecco Aggiungiamo qui, giriamoci che c'è la telecamera che ci sta inquadrando Attenzione, eh? Faremo tra poco il brindisi Però ne approfittiamo, ne approfittiamo anche Non solo per festeggiare il suo compleanno, i suoi grandi traguardi, i suoi grandi successi Ma questo vuole essere anche un augurio particolare Perché non so se ci vedremo per Natale o Capodanno Penso proprio di no E allora vuole essere anche un augurio particolare, no? Per festeggiare il Natale e il nuovo anno E il 2012 Con la crisi, ma che c'è, prega, non fa nulla, con la crisi Non fa nulla, va bene? E allora, 3, 2, 1, auguri! Auguri, ragazzi, anche per voi, eh? Auguri, auguri Vale, auguri, Meina Eregno Auguri, sì, dimmi Per donna, se ti discorpo, è importante C'è il papà di una ragazza pure che lo aspetta